Questa mattina presentiamo come Comitato Fano Primarie il risultato della campagna iniziata meno di un mese fa per la raccolta firme a sostegno della convocazione delle elezioni primarie del centro-sinistra a Fano. Il risultato è stato anche al di sopra delle nostre aspettative perché appunto in meno di un mese sono state oltre mille le cittadine e cittadini che hanno sottoscritto insieme a noi l'appello. L'appello rivolto a tutte le forze del centro-sinistra cittadino per richiedere la convocazione urgente delle primarie individuando in questo strumento la leva di un processo democratico di partecipazione che consenta alle cittadine e cittadini, al popolo del centro-sinistra di poter scegliere in maniera libera, trasparente, senza condizionamenti, democratica quelli che sono i programmi e i candidati o le candidate migliori per battere la destra alle elezioni amministrative del 2024 e vincere la sfida per il governo della città. La raccolta firme ad oggi è a quasi 1100, abbiamo fatto banchetti, incontri, iniziative e ovviamente lo strumento del portale online che ha aiutato tantissimo i singoli cittadini che anche fuori dalle reti relazionali hanno voluto partecipare e dare il contributo. Abbiamo raccolto la disponibilità di decine e decine di donne e uomini a partecipare all'impegno nelle prossime settimane per strutturare le primarie nella nostra città e sicuramente questa è un'energia e un entusiasmo che non sono di qualcuno sono un'energia e un entusiasmo che sono una ricchezza e un patrimonio per tutto il centro-sinistra e noi ovviamente ci auguriamo che questo processo democratico si possa allargare, possa crescere perché abbiamo bisogno di questa passione, di queste energie, di questo entusiasmo non di decine ma di centinaia, di migliaia di persone per fare in modo che il centro-sinistra possa fare le scelte migliori e soprattutto possa vincere le prossime elezioni amministrative.